Cari ascoltatori di RTA Video Taro, buonasera dalla vostra Ateneggina e benvenuti alla finale di X-Taro 2016. Quest'anno c'è un premio che è un premio tangibile, la realizzazione di un brano più il videoclip. Quindi noi stiamo cercando il personaggio che abbia l'appeal giusto per risultare poi alla fine un prodotto commerciale vendibile. E' una catena ormai che scioglie il sangue dinto bene, dinto bene sai. Te voglio bene assai, ma tanto tanto bene sai. Si chiama Rossella Bolzoni! E il tacco? Il tacco c'è, il tacco c'è. Ciao Rossella! Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta. Tutti vogliono tutto per poi accorgersi e niente. Noi non faremo come l'altra gente, questi sono e resteranno per sempre. I migliori anni della nostra vita, stringimi forte che nessuna notte è infinita. I migliori anni della nostra vita. La finalista che è Noemi Buccalossi. Eh oh, a me piglia sto pezzo. Noemi prego vieni in mezzo a noi. Vieni in mezzo a noi. Ma non pensarmi più Ti ho detto di mirare L'amore spacca il cuore Spara, spara, spara amore Tu non pensarmi più Che cosa vuoi aspettare L'amore spacca il cuore Spara, spara, spara dritto Qui Dritto qui Dritto qui Spara dritto qui Spara amore La minna samba Non cadere Non cadere Cioè l'unico che non ha i tacchi stasera mi vai a cadere proprio tu Non cadere Non cadere Stora stagge Stora strolling in the sweet sunshine And then already late I don't need an excuse So I'll find a bright new truth So I'll find a bright new truth Take me wanderer to this street Where bright lights and angels meet Stone to stone to take me home I walk up to the break up Take me wanderer to this street Where bright lights and angels meet Stone to stone Take me home I walk up to the break up Grazie per la visione!